Valzer di nomi intorno al rimpasto di giunta annunciato dalla sindaca Cecilia Francese. Dopo le dimissioni in bianco dell'assessore all'ambiente Carolina Vicinanza, potrebbero arrivare anche quelle degli assessori Pastorino e Caracciuolo, dando il via alla rimodulazione dei nomi e delle deleghe prospettata dalla prima cittadina nei giorni scorsi. Le indiscrezioni, confermate dalla stessa Francese, parlano di una possibile promozione per molti consiglieri comunali, a cominciare da Angelo Cappelli, dato per favorito per la poltrona di vicesindaco. Peso importante avranno anche i pareri dei vari gruppi consigliari.